Buongiorno a tutti, qualità di sindaco di Pomaretto, esprimo anch'io in questo periodo così difficile quelle che sono le iniziative che abbiamo intrapreso sul nostro territorio. Innanzitutto la collaborazione molto attiva da parte dei commercianti di alimentare che si attivano sia loro per la consegna a domicilio come il supporto così importante della Croceverde di Perosa Argentina che svolge questo servizio sull'interritorio della nostra valle. Abbiamo subito avuto le nostre associazioni attive che si sono già impegnati a donare dei loro fondi a loro disposizione insieme all'amministrazione comunale, in modo particolare per l'acquisto dei DPI alla Croceverde qui di Perosa Argentina, come abbiamo devoluto dei fondi all'ospedale di Pinerolo per riconoscere realmente quell'attività importante che oggi stanno svolgendo medici, infermieri e tutti i dipendenti del settore sanitario. Abbiamo fra le altre iniziative, ci siamo anche prodigati per riuscire a realizzare un po' di mascherine, perché purtroppo questo dobbiamo dircelo fino in fondo, non si trovano e anche rischiando, perché stiamo realizzando delle mascherine artigianali, ma mi assumo tutte le mie responsabilità in qualità di sindaco e siamo riusciti grazie a un'azienda artigianale qui del luogo a oggi a realizzare più di 1500 mascherine a servizio sul territorio di Pomaretto e della Val Germanasca. Questa è un'iniziativa che ritengo veramente lodevole che questa azienda ha voluto accogliere e raccogliere e dare un proprio supporto. Per quanto concerne i nostri dipendenti comunali, possiamo dire che qui all'interno del municipio siamo rimasti il soggioscritto e il vigile. Gli altri dipendenti ormai da due settimane stanno lavorando da casa. Questa settimana abbiamo perfino attiviato, avendo sede di ospedale sul territorio di Pomaretto, anche per le onoranze funebri che non si devono più reccare il municipio, ma tutta la pratica, la procedura viene svolta online. Anche questo è un servizio che riteniamo in questi momenti, dove dobbiamo restare tutti a casa e questo è un massaggio ormai importantissimo, dobbiamo tutti fare la nostra parte. Quindi abbiamo anche realizzato questo punto importante. Devo segnalare alcune criticità. Una criticità è quella che oggi le banche del territorio ci lasciano da soli. Chiudono gli sportelli, non informano neanche minimamente i sindaci, lasciando in modo particolare le imprese che lavorano, i commercianti, le farmacie e non avere a disposizione il loro punto di banca chiedendogli di fare oltre 20 km. Questo mi pare che è un aspetto inaccettabile e ritengo che le istituzioni superiori a noi devono veramente prendere dei provvedimenti. Ma parallelamente devo dire un sincero grazie alle poste, perché le poste stanno svolgendo il lavoro in modo organizzato, danno la disponibilità necessaria ai cittadini per quello che serve. Noi abbiamo da un anno un punto posta sul nostro territorio e devo dire che in questo momento, in questa occasione è stata una cosa veramente molto utile. Quindi dobbiamo vivere alla giornata, gestire questa situazione, restare a contatto. il mio numero di cellulare è a disposizione di tutti i cittadini H24, quindi cerco di essere al fianco dei miei cittadini per quanto possibile e cerchiamo tutti insieme di gestire al meglio questa situazione, augurandoci al più presto di poter ritornare a una vita serena e forse questo ci insegnerà che potremo tornare a una vita sociale anche un po' diversa.